Benvenuti a tutti, benvenuti all'officina bar garage The Meck Monteremo, smonteremo, faremo motori, elettronica, tutto quello che è umanamente possibile da fare Mi raccomando, seguitemi, iscrivetevi al canale, non perdetevi nessuna puntata del canale Meck Adverso No, non mi piace Salve a tutti gente Salve a tutti gente e benvenuti nella mia officina barra garage Vi invito a iscrivervi al canale Salve a tutti gente e benvenuti alla mia officina barra garage L'officina di Meck, qui costruiremo attrezzatura, costruiremo roba, lavoreremo sui motori, lavoreremo sull'elettronica, sul legno, su tutto quello che è umanamente possibile Quindi vi invito ad iscrivervi al canale, accendete la campanella e non perdetevi nessun video Una rivederci a tutti e buona visione Rivederci a tutti e buona visione un benvenuto a tutti benvenuto a tutti nella mia officina Bata Garage io sono Mac sul canale MacAdventure perché ogni giorno è un'avventura in questo garage, in questa officina creeremo qualcosa insieme non tutti i giorni ma quasi monteremo, smonteremo motori, lavoreremo sull'elettronica, lavoreremo sul legno e quindi vi invito tutti a iscrivervi al canale accendete la campanella e non perdetevi nessun appuntamento con Mac un benvenuto a tutti nella mia officina Bata Garage io sono Mac per chi non mi conosce il mio canale si chiama MacAdventure perché ogni giorno è un'avventura nuova qui lavoreremo sui motori, lavoreremo sull'elettronica, lavoreremo sul legno, metallo tutto quello che è umanamente possibile da fare quindi vi invito a seguire il mio canale iscrivetevi, accendete la campanella per i nuovi video e buona visione a tutti un benvenuto a tutti nella mia officina Bata Garage per chi non mi conosce io sono Mac e il canale si chiama MacAdventure perché? Perché ogni giorno è un'avventura in questa officina lavoreremo sui motori lavoreremo sull'elettronica, lavoreremo sul legno lavoreremo sul metallo, lavoreremo su tutto quello che è umanamente possibile da fare quindi vi invito a iscrivervi al canale ad accendere la campanella e non perdete i prossimi video MacAdventure Salve a tutti gente e benvenuti nella mia officina Bata Garage io sono Mac, il canale si chiama MacAdventure qui lavoreremo sui motori lavoreremo sull'elettronica lavoreremo sul legno lavoreremo sul metallo un benvenuto a tutti nella mia officina Bata Garage io sono Mac per chi non mi conosce e il mio canale si chiama MacAdventure qui lavoreremo sui motori sull'elettronica sul legname sul metallo faremo tutto quello che è umanamente possibile da fare naturalmente il posto avrà bisogno di lavoro e lo faremo insieme costruiremo assembleremo tutto quello eh no no un benvenuto a tutti no non mi piace un benvenuto a tutti nella mia officina Bata Garage io sono Mac salve a tutti e benvenuti nella mia officina Barra Garage io sono Mac il canale si chiama MacAdventure perché per me ogni giorno è un'avventura quindi qui lavoreremo il metallo il legno lavoreremo i motori lavoreremo sull'elettronica faremo tutto quello che è umanamente possibile da fare quindi vi invito ad iscrivervi al canale ad accendere la campanella e la macchina che si viene giù per rompire i coglioni salve a tutti e un benvenuto nel mio garage nella mia officina Barra Garage salve a tutti e benvenuti nella mia officina nella fila di maneta un benvenuto a tutti nella mia officina Barra Garage io sono Mac per chi non mi conosce qui lavoreremo sui motori elettronica carrozzeria metallo legno faremo tutto quello che è umanamente possibile da fare costruiremo attrezzatura costruiremo un po' di che costruiremo cazzo 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 cazzo